Ci colleghiamo ora con Taylor Hackford, regista, premio Oscar, a diretto tra le altre cose, l'ufficiale Gentiluomo e Ray. Taylor, benvenuto. Buonasera, Maria. Venezia, il primo festival dove la protesta degli sceneggiatori e degli attori è visibile, molte sono le assenze. Come sta impattando questa protesta il vostro lavoro? Amo Venezia, ho fatto anche parte della giuria, è un festival meraviglioso e gran parte del festival è avere i registi e gli attori presenti. E quando non hai ad esempio Bradley Cooper che ha un film in uscita a Venezia o altri che non possono partecipare, è un'assenza che nuoce al festival e all'industria del cinema. Queste assenze sono in solidarietà con gli sceneggiatori che sono in sciopero da oltre 100 giorni. Abbiamo sentito le loro paure riguardano sia il contratto, il rinnovo del contratto, ma soprattutto l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è ormai una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Nel 2007 e 2008 gli sceneggiatori scioperarono per mesi, ma purtroppo gli studios iniziarono a produrre reality show senza di loro. Hollywood perse allora 25.000 posti di lavoro. Io sono preoccupato per tutte le maestranze con le quali lavoro. I operatori, i montatori, i parrucchieri, i truccatori che non lavorano da quattro mesi. Molti degli sceneggiatori e degli attori se la prendono con le grandi major, i grandi produttori Amazon, Netflix, HBO, dicendo che sono loro che dettano le regole e non gli artisti. Lei cosa pensa? Effettivamente questo è un sciopero creato da Netflix. Questo è uno sciopero creato da Netflix. Ha stravolto il cinema, ha cambiato le regole. Loro sono una società che ti vende un abbonamento, tu paghi e poi puoi guardare ciò che vuoi. L'industria del cinema che io amo invece richiede che tu compri un biglietto, scelga cosa andare a vedere, voti per il miglior film comprando un biglietto e andandoti a sedere in sala. Il successo di un film lo imponeva il pubblico. Con il modello Netflix sono loro a scegliere e non ti danno neanche i dati delle visualizzazioni, anche se li conoscono perfettamente. Come riportare le persone a vedere il cinema, a pagare il biglietto? Se pensiamo al futuro del cinema, abbiamo un problema molto più grosso di Netflix e si chiama intelligenza artificiale. Se riescono a prendere le mie idee, il mio lavoro creativo e poi gli attori, dando anche una sceneggiatura scritta da loro, restituendocela in un film girato, come lo avrebbe fatto Orson Welles, scegliendo magari attori con le capacità di Ingrid Bergman o di Enfrey Bogart, per fare un esempio, allora abbiamo un problema. Tutti abbiamo un problema. Registi, attori, maestranze, ma anche gli studios hanno un problema. Dobbiamo evitare all'intelligenza artificiale di avere accesso al nostro passato, al lavoro artistico, altrimenti tutto è a rischio, altrimenti tutto è a rischio. E' necessita di una legislazione che obblighi le grandi società della Silicon Valley a assumersi le loro responsabilità. Questa è la vera sfida. Sono solidari con gli artisti in sciopero e spero che trovino presto un accordo. Dobbiamo trovare un accordo con gli studios per fermare la distruzione del nostro lavoro da parte dell'intelligenza artificiale. Taylor Hackford, grazie di essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a tutti, Maria.